Ma una cosa è certa, tutti i paesi che investono direttamente nella cultura sono più ricchi. Sentite che cosa ci ha raccontato, molto interessante, il professor Pierluigi Sacco della Libera Università di Milano dove insegna arti, mercati e patrimoni della cultura. I veri problemi adesso sono quelli di capire come la cultura può diventare un elemento trainante di un modello di sviluppo italiano che tenga conto delle nuove opportunità globali. La cultura non viene percepita come un campo dove c'è occupazione. E questo è il punto, stiamo parlando di un settore che fatica ad essere preso sul serio dall'opinione pubblica e naturalmente dai decisori italiani, a meno che non si considerino le punte più evidentemente industriali di questo settore come la moda o il design. Ma non ci si rende conto che questo settore in realtà è fortemente interdipendente, cioè la nostra capacità della moda o del design di essere innovativi, di produrre contenuti dipende dalla vitalità delle nostre artivisive, dipende dalla vitalità della nostra letteratura, del nostro teatro. È un sistema interdipendente che è competitivo soltanto nella misura in cui viene pensato come un sistema. Per tornare al MIBAC e alle politiche di questo governo, dei governi passati, di tutti i governi che ci sono stati, il dibattito è sul muro di Pompei che crolla. Secondo lei forse bisogna cambiare un po' l'ottica? Quello che tende a passare in Italia è l'idea che noi avendo già uno sterminato patrimonio culturale possiamo trascurare tutti gli aspetti della produzione culturale perché in ultima analisi abbiamo già tanto da conservare e quindi per esempio puntiamo sul turismo, ma non ci rendiamo conto che un paese che non produce cultura, che non è sulla frontiera della produzione delle idee, non ha neanche la sensibilità e la cultura per conservare. Quando ci sono stati tagli al FUS e poi il FUS è stato reintegrato, che è il fondo unico dello spettacolo, qualcuno ha scritto e detto che per colpa di Nanni Morettio, di chi per lui noi paghiamo di più la benzina, è così? Il fatto stesso è che si discuta di queste cose, cioè ritenendo che in ultima analisi la cultura sia un lusso elitario per pochi che alla maggior parte degli italiani non interessa e non serve, già dimostra quanto rozza in questo momento, quanto limitata è la concezione del ruolo sociale ed economico della cultura nel nostro paese. Oggi noi sappiamo che la cultura è legata in maniera fortissima alla capacità innovativa di un paese, perché chi accede alla cultura è anche capace di mettere in discussione le sue idee. Il punto è che anche chi non lavora nel settore culturale ha bisogno della cultura per aprirsi la mente, ha bisogno della cultura per poter mettere in discussione le proprie convinzioni, cioè quella ginnastica mentale che è la vera e propria materia prima dell'innovazione. Ma tutto è perduto, secondo lei, in Italia abbiamo perso qualunque treno o possiamo prendere un treno di riserva che arriverà fra un po'? Questo treno non l'abbiamo ancora perso se ci muoviamo tempestivamente. In questo momento l'industria culturale creativa sta diventando uno dei grandi temi di competizione globale. La Cina per esempio, anche alcuni paesi emergenti come per esempio la Corea del Sud che in questo campo sta diventando per esempio leader nell'industria dei contenuti televisivi per esempio, stanno facendo degli enormi investimenti, stanno creando occupazione, stanno creando imprenditorialità, ma guardano l'Europa come un potenziale laboratorio di sperimentazione e di apprendimento. Se noi come Italia da questo punto di vista capiamo che la sfida non è soltanto la conservazione del patrimonio o la valorizzazione turistica, ma è anche e soprattutto la produzione imprenditoriale di nuovi contenuti creativi, possiamo in questo settore cogliere una finestra di opportunità che per i giovani di oggi è fondamentale. Le intelligenze e i talenti ce li abbiamo, abbiamo bisogno di un po' di strategia, quello che ci manca in questo momento è un disegno di politica economica che faccia, che dia alla cultura il peso strategico che deve avere, mentre noi continuiamo a pensare alla cultura dal punto di vista della politica economica al massimo come un peso morto. Difficilmente puntiamo sulla cultura come un settore realmente cruciale per il modello di crescita futuro di questo Paese.